Dopo cena stavamo parlando d'un delitto che era avvenuto nel nostro villaggio. La baronessa era indignata. Come era possibile una cosa simile? La ragazza, sedotta dal garzone del macellaio, aveva buttato il piccolo appena nato in una cava di marmo. Che orrore! Era stato anche provato che il povero piccino non era morto subito. Il medico che quella sera aveva accenato al castello dava ai particolari più orribili con aria tranquilla e sembrava meravigliato del coraggio mostrato da quella madre miserabile che dopo aver partorito da sola aveva fatto due chilometri a piedi per andare ad assassinare il figlio. Ripeteva, deve essere di ferro quella ragazza. Pensate quanta forza si è dovuta dare per attraversare il bosco di notte col neonato che strillava tra le sue braccia. Questo ha nichilito di fronte a simili sofferenze morali. Pensate quanta paura, quanto strazio dovevano essere nel suo animo. La vita è odiosa e miserabile. Sono questi infami pregiudizi. Eh sì signora, questi infami pregiudizi. Un falso concetto dell'onore è ancora più abominevole di qualsiasi delitto. E tutto un accumulo di sentimenti artificiali, di odiosi perbenismi, di rivoltanti convenzioni che possono spingere al delitto, all'infanticidio delle povere ragazze che hanno ubbidito senza remore alla legge imperiosa della vita. Che vergogna per l'umanità aver ufficializzato una simile morale. Che vergogna aver fatto diventare un crimine il libero amplesso di due esseri umani. La baronessa era impallidita dall'indignazione. Polemizzò. Allora dottore, voi preferite il vizio alla virtù? Una prostituta a una donna onesta? Quella che s'abbandona ai suoi istinti vergognosi vi sembra da porre sullo stesso livello di una moglie irreprensibile che compie i suoi doveri con coscienza integra. Il medico, un uomo anziano che aveva allenito tante ferite, s'alzò in piedi e disse a voce alta. Signora, voi parlate di cose che non sapete, non avendo conosciuto quanto violente possono essere certe passioni. Lasciate a chi vi racconti una storia recente di cui sono stato testimone. E poi, signora, siate sempre indulgente e buona e misericordiosa. Voi non conoscete certe cose. Sono ben disgraziati coloro a cui una perfida natura ha dato dei sensi che non trovano requie. Le persone normali, quelle che ignorano sin dalla nascita la violenza degli istinti, vivono necessariamente secondo i dettami della morale corrente. È facile adempire al dovere per coloro che non sono torturati da una foia scatenata. Io vedo tante signore della piccola borghesia, fredde per impulsi ben controllati, di rigidi costumi, di media intelligenza e di limitati sentimenti, indignarsi vivamente ogni volta che vengono a conoscenza degli errori commessi da donne perdute. Eh, voi potete dormire in tutta tranquillità in un calmo letto, in cui non si agitano fantasie sconfinate. Le persone che vi sono vicine sono come voi, agiscono come voi, salvaguardate dall'istintiva moderazione dei loro sensi. Solo la vostra mente può avere qualche volta dei pensieri più morbosi, senza tuttavia che il corpo sia sfiorato da queste suggestioni tentatrici. Ma i sensi sono incontrollabili in coloro che il caso ha creato erotomani. Potete fermare il vento o le maree? Potete porre limiti alle forze della natura? No. E anche i sensi sono forze della natura, invincibili come il vento, come il mare. Sollevano e trascinano gli uomini e ne fanno le prede della volutà, senza che possano opporre resistenza alla vehemenza dei loro decideri. Le donne cosiddette irrepensibili sono quelle che non hanno temperamento, sono parecchie. Non ammiro la loro virtù, in quanto non deriva dal superamento di un conflitto interiore. Tuttavia una donna di temperamento. Mi comprendete? Una messalina, una caterina di Russia? Non sarà mai virtuosa. Non può esserlo. È stata creata per furiosi combattimenti erotici. I loro organi non sono affatto simili ai vostri. La sua carne è diversa, più sensibile e vibrante a qualsiasi contatto con un'altra carne. I suoi nervi la tormentano, la sconvolgono, la soggiogano, mentre i vostri non si ribellano alla ragione. Nutrireste uno spalviero, con gli stessi chicchi che date a un pappagallino. Eppure sono entrambi uccelli, ed entrambi dotati di un becco molto forte. Ma i loro istinti sono del tutto differenti. Oh, i sensi! Se sapeste com'è smisurata la loro potenza! I sensi, che dominano, fanno ansimare per notte intere. La pelle che scotta, il cuore agitato, la mente ossessionata da visioni sconvolgenti. Vedete, signora, le persone che hanno inflessibili buoni principi sono semplicemente persone fredde, disperatamente gelose delle altre, e non se ne rendono conto. Statemi ad ascoltare ancora. La donna, che chiamerò Hélène, era preda dei suoi sensi accesi. Era stata così sin da bambina. S'erano testati in lei insieme alla parola. Mi direte che era un'ammalata? Ma perché? Allo stesso modo si potrebbe dire che voi altri siete di debole costituzione. Fui consultato dalla famiglia quando Hélène aveva dodici anni. Mi resi conto che era già donna e ossessionata di continuo da pulsioni erotiche. Bastava guardarla per capirlo. Aveva già delle grandi labbra carnose, girate all'insù, aperte come fiori, il collo massiccio, la pelle sempre calda, il naso largo leggermente camuso e fremente, grandi occhi chiari e uno sguardo già capace di infiammare un uomo. Chi mai avrebbe potuto raffreddare il sangue di quell'ardente bestiolina? Passava la notte a piangere senza motivo. Da soffriva atrocemente d'essere senza un maschio. Insomma, a quindici anni la fecero sposare. Suo marito morì tisico di lì a due anni. Lei lo aveva prosciugato. A un altro marito toccò la stessa sorte in diciotto mesi. Il terzo resistette quattro anni. Poi si decise ad abbandonarla appena in tempo. Rimasta sola, Hélène volle rimanere casta. Aveva gli stessi vostri pregiudizi. Finalmente un giorno mi chiamò a visitarla. Aveva delle crisi di nervi preoccupanti. Mi resi conto che correva il pericolo di morire se rimaneva senza uomini. Glielo dissi. Signora, Hélène era una donna per bene. Nonostante le torture che sopportava, non volle seguire il mio consiglio di prendersi un amante. In paese, dicevano che era matta, usciva di notte e si metteva a correre per di fiato per calmare il corpo in subbuglio. Poi aveva delle sincopi con spasimi orrendi. Viveva da sola in un castelletto vicino alla dimora della madre e della sua famiglia. Ogni tanto andavo a visitarla senza riuscire a trovare un rimedio contro quei forti impulsi naturali o contro la sua ferma volontà. Una sera, verso le otto, venne in casa mia. Avevo appena terminato di cenare. Quando fummo soli, mi disse «Sono perduta. Sono rimasta incinta. Ebbe un moto di stupore. Che cosa dite? Sono incinta. Voi? Sì, proprio io!» E all'improvviso aggiunse, parlando a scatti e guardandomi dritto negli occhi. «Sono incinta del giardiniere, dottore. Un giorno, mentre passeggiavo nel parco, sono stata vicina a uno svenimento. Quell'uomo che mi aveva veduto scivolare a terra è accorso e mi ha preso tra le braccia per rialzarmi. Cos'è accaduto dopo? Non so più. Forse l'ho stretto a me. L'ho baciato. Forse. Voi conoscete la mia vergognosa malattia. Insomma, sono stata sua. La colpa è mia. Anche il giorno dopo mi sono data a lui nello stesso modo e poi ancora altre volte. Era la fine. Non riuscivo più a resistere. Ebbe un singulto. Poi, riprese con fierezza, lo pagavo. Preferivo un rapporto simile all'amante che voi mi avevate consigliato di prendermi. Mi ha messo incinta. Sì, mi confessò senza riserve né esitazioni. Ho subito cercato di abortire. Non volevo salvare me che ancora non sento e non conosco. Ho fatto qualche bagno bollente. Ho montato cavalli focosi, ho bevuto droghe, a senso zafferano insieme e altre ancora. Non ci sono riuscita. Voi conoscete mio padre, miei fratelli. Io sono perduta. Mia sorella ha sposato un uomo di grande dirittura morale. La mia colpa vergognosa ricadrà su tutti loro. E pensate ai nostri amici, ai vicini, al nome della famiglia, a mia madre. Si mise a singhiozzare. Le presi le mani e le feci qualche domanda. Poi le detti il consiglio di fare un lungo viaggio all'estero e di partorire lontano di qui. Rispondeva sì, sì. È giusto, ma non sembrava che fosse stata ad ascoltarmi. Poi se ne andò. Andai a farle visita parecchie volte. Stava impazzendo. L'idea di questo figlio che stava crescendo nel suo ventre di questa vergogna vivente che era entrata come una freccia a guzza nel suo animo. Non faceva che pensarsi. Non osava più uscire di casa durante il giorno. Non osava più veder nessuno per il timore che si potesse scoprire il suo vergognoso segreto. Ogni sera si spogliava davanti allo specchio dell'armadio e guardava il suo ventre deformato. Poi si buttava a terra con una salvietta in bocca. per soffocare le urla. Durante la notte si alzava almeno venti volte, accendeva la candela e tornava davanti al suo grande specchio che rifletteva l'immagine ingrossata della sua nudità. Allora, sconvolta, prendeva a pugni il ventre per uccidere quell'essere che non conosceva e che era causa della sua rovina. Era una lotta spaventosa. Ma lui non moriva e si muoveva in continuazione come se avesse voluto difendersi. Si arrotolava sul pavimento nel tentativo di schiacciarlo a terra. Dormiva con un gran peso sulla pancia pensando di poterlo soffocare. Lo odiava come si odia un nemico che minaccia la nostra esistenza. Dopo questi inutili tentativi, questi sforzi impotenti per sbarazzarsi del figlio, scappava per i campi in una corsa folle spaventata e affranta. Una mattina la raccolsero mentre teneva i piedi nel ruccello gli occhi sbarrati. Pensarono a un momento di pazzia ma nessuno si accorse del suo stato. La teneva in vita una sola idea espellere dal proprio corpo quel figlio maledetto. Un giorno sua madre le disse ridendo «Stai ingrassando Hélène, se fossi sposata direi che sei incinta!» Queste parole dovrebbero essere per lei un colpo mortale. Andò subito via e tornò a casa sua. Che cosa avrà fatto? Certamente avrà guardato ancora il suo ventre rigonfio. L'avrà colpito, torturato, spinto contro gli spigoli dei mobili come era solita fare tutte le sere. Poi discese a piedi nudi in cucina, aprì la credenza e prese il grande coltello affilato e serve per tagliare la carne. Risalì, accese quattro candele e si sedette su una seggiola di vimini intrecciati di fronte allo specchio. Allora esasperata desecrazione contro quell'embrione che non conosceva e che temeva con l'intenzione di tirarselo fuori e di ucciderlo strangolandolo con le sue stesse mani per buttarlo via individuò il punto in cui si stava muovendo la larva e con un sol colpo si aprì il ventre. Oh, scoprò certo con destrezza e abilità perché riuscì a prenderlo il suo nemico che finora non era riuscita a colpire. Lo prese per una gamba e se lo strappò da sé tentando di gettarlo tra la cenere del caminetto. Ma il figlio era legato a lei da cordoni che non era riuscita a spezzare e forse prima che potesse capire quel che le restava da compiere per separarsi da lui cadde esanime su di lui annegato in un lago di sangue. Era davvero colpevole? Signora? Il medico tacque e aspettò. La baronessa non rispose. di sangue di sangue Grazie a tutti